Il mio è il ruolo di Martina, un'infermiera molto simpatica, molto trasognante, romantica, con questi occhioni grandi, sempre emozionata, molto molto immatura come personaggio, però molto ironica, che si ispira un po' a Gollion in Fiori di Cactus, non so se ricordate un po' quel film, quindi è uno stile un po' cartoon, un po' americano. Mi piace comunque avere sempre questo rapporto di reciprocità, dal prendere e dare, vivo sempre i rapporti così, però sicuramente sono nate delle bellissime amicizie, con tantissimi artisti, Luise Latamietto, Albertina Malferrari e chiaramente loro sono stati un po' i nostri maestri, sono stati un po' la guida, ci hanno fatto divertire tanto tra l'altro. Il messaggio del film è importante, sebbene sia giocato in chiave brillante, in chiave comica, perché racconta la storia di questi vecchietti che comunque vivono un momento di difficoltà come spesso succede nelle case di cura quando i vecchietti vengono abbandonati e però con la loro esperienza, la saggezza e l'esperienza delle persone comunque che raggiungono una certa età riescono a ribaltare la situazione e a riscattarsi, quindi è un messaggio positivo però giocato in chiave ironica e brillante. Lo consiglio perché alla fine, dopo questo momento così difficile tra guerra e pandemia, un sorriso in più fa sicuramente bene.